che ci ho detto prima del video tu ti fai troppe canne ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di king kong alla riscosta di con king siamo qua con perché copi le battute di due vecchi video perché si ingresa non si deve aggiornare più se d'ora mai è obsolete cominciò geffardi obsolete obsolete vi parla l'affascinante gioco del pro gamer e vi parla lo scimpanzee forever ai due a parlare in russo in questa nuova puntata no non parla di russo parla kingonese parla kingonese però è educato king kong dai c'è una scala che va a prendere tutte le due cos'è successo nella puntata precedente di questi due questa cosa sarebbe morto non pensare a me don dinosauro ma aspetta dove possono vedere l'ultima puntata prima di questa nella live di ieri la live che trovate nella playlist king kong si chiama king kong in live più cazzeggio uscirà forse una i che vi dirà dove prende dove fare il video comunque sempre nella playlist king kong che sydney lo tieni duro, non funziona, è semplice la regola, vai, PS2 lo so che tu ti droghi con le canne e ti fai pure le siringhe, ma questa siringa mettila dentro di loro, zitto zitto ho capito che PS2 come deve fare, non ci possono salire, ma cuociti allo spiedo PS2, fai un barbecue, vedi tu, ricordo che il punto principale è difendere gli alleati, comunque avete visto inizio video che il nostro caro amico Ace ha abbandonato la compagnia dell'anello, sarebbe ancora vivo comunque, ce l'ho più dietro, che è passato davanti, sono posto, ancora vivo, hanno morto, ma no, è tornato, PS2 è tornato, è tornato, vedi devi atterrare sul lago, ne sei certo, ricordatevi nella vostra miserabile vita, tra cui la mia patetica vita, dovete dire ai vostri figli, papà, se vi chiederanno, papà, ma chi è PS2 forever, PS2 forever è un pezzo di c***o, che cosa fa nella vita, conta le munizioni, Kingongo, poi devi parlare Kingonese, e poi non c'è chi rivolga, sono a farlo parlare, allora parla in Jack Heser, va bene, un caricatore di scotto, un caricatore di scotto, di scotto, che ho la mano, un caricatore di scotto, un caricatore di scotto, un caricatore di scotto, un caricatore di scotto, bello, sono leggendo, se non la finisci ti tiro un caricatore di scotto in testa, allora siamo a con due caricatori fiscosi questa parte non la ricordo adesso si diverte si diverte il gioco l'hai finito quindi dovresti conoscere a memoria le missioni cacchio io me le ricordo ancora tu non te le ricordi no dovresti arrivare a quel lago a quello specchio di lago e ovviamente non facendo morire anche il tuo compagno perché ricordo che il punto principale è far morire il tuo compagno oltre salvarti le chiappe e anche salvare le chiappe ma perché? perché si è avvicinato e ti ha morso e siamo a due morti cioè non salgo una scala larga 20 km e si mettono in un buco di un muro questi due nei buchi loro sono esperti come si è esperto pure tu ma miseria non sei esperto di buchi no io faccio la pasta che là c'è il buco e c'è il sugo e lo prende ho detto nel buco della pasta c'è il sugo tu per prenderlo che devi farnevi su oramai il King Kong non è più una serie serie oramai dopo dopo il tienilo duro dopo i deal e dopo il succhi e sugo dalla pasta quindi ho preso la testa PS2 si concentra sulla testa dei dinosauri comunque PS2 dovremmo fare video brevi e dovresti muoverti ecco tua sinistra e guarda a destra bellissimo in molti mi avete chiesto Joker continua fai una puntata tu di King Kong bene io vi rispondo voi che mi avete chiesto non posso portarlo perché la serie l'ha iniziata PS2 e la concluderà PS2 mi pare pure giusto vero PS2 ah per me ti stai dicendo no giocaci adesso che sto morendo bravo poi bello c'è un fucile e non lo usa grazie Jack ricordo comunque che ti conta se usi le lanci ti penalizza di punteggio penso che dicevi non me ne frega un cazzo guardate PS2 come è educato vuole affrontare Batman da solo PS2 contro Batman vince PS2 ma mi sembra la volta vince PS2 io mi ricordo che da queste parti c'era un'arma si e perché non ci arrivi invece di perdere tempo con questi pipistrelli PS2 è sento dei passi ti ricordo di una montagna chi troppo dai tuoi compagni che magicamente si tiene trasportato davanti al tempo i misteri PS2 odia a morte Jimmy bravo ma prenditi il fucile dove è il caricatore di scuola come va c'è dei nemici guarda i muri ma che tu li riazzati col calcio del fucile non serve a niente bellissimo con una lancianotta e l'ho ucciso oddio la potenza di PS2 ah che due coglioni comunque scusate se il episodio non commenta ma è talmente preso da questa missione che non ce la fa vai vai a ecco uccidi i pipistrelli e porti il ragazzo in sala in sala perché devi prendere tempo se dovescono video lunghi dopo perché fate i video lunghi non mi ci fa passare no te lo dico perché dopo dicono perché fate i video lunghi poi sto con bene con gli iscritti che non si sentono che è più facile vedere la madonna di Lourdes che vedere loro e ti dicono ma fate i video corti fateli solo per me quindi ah io sono andato vai avanti Jimmy arrampicati fallo arrampicare questi due Jimmy sali sull'aereo è un ordine e nel roma arrivo io ma mi chiedo perché non ti poteva accompagnare con qua con questo non mi sfugge il termine di questo qua con l'idrovolante perché è un figlio di pulpetta idrovolante bene la puntata finisce qui comunque questa puntata grazie a Dio finisce qui se vi avete piaciuto lasciate tanti like commenti iscrivetevi al canale seguitici sulla pagina instagram non seguiti a PS2 su instagram perché è stupido seguiti a me invece che sono intelligente continuate tutte le vostre esperienze si ci arriverà il momento comunque PS2 non ha commentato durante il gameplay perché è morto di paura con quei dinosauri beh PS2 vuoi dire qualcosa vuoi accennare vuoi far conoscere un po' di King Kong che si mi sta bene raffreddò nemmeno ultimo ancora mai proprio 480 ha fatto incredibile salvo si per il punteggio eh salvo comunque vuoi salutare qualcuno in particolare no io saluto tutti quanti dai vostri amatissimi dai vostri amatissimi da Giancarlo Forever e da Salvatore Pro Gamer è tutto saluta lui e che saluta tu vuoi salutare Luca tu vuoi vabbè da Giuseppe è tutto